Mister Di Carlo 0-0 contro il Palermo, raggiunto il Cagliari in classifica, adesso l'obiettivo è l'Atalanta. No, non è l'obiettivo dell'Atalanta, l'obiettivo è vincere le più partite possibili, senza far tanti calcoli, ben sapendo che nel giorno di ritorno le partite sono sempre più difficili da vincere. Però la squadra sta bene, l'ambiente si è compattato, c'è una sfera giusta per cercare di fare questa impresa e adesso deve parlare solo del campo e soprattutto noi come squadra per cercare di fare il massimo possibile. Come ha detto lei, adesso la squadra sta bene. Dove è arrivata la svolta della stagione con adesso il Cesena che sembra veramente in corsa per la salvezza? Io penso che è sempre il lavoro che paga sempre. Noi abbiamo iniziato cercando di dare una metodologia diversa ma loro si sono messi a disposizione, i giocatori si sono messi a disposizione, l'ambiente è giusto per lavorare perché gli danno il tempo e adesso bisogna solo cercare di continuare sulla concentrazione ma soprattutto sul gioco un pochino più offensivo perché il Cesena deve vincere le più partite possibili quindi stiamo lavorando molto sulla fase offensiva e neanche a farla apposta ultimamente è migliorata anche la fase difensiva e questo è un bel segnale perché sappiamo che non prendendo gol probabilmente hai più possibilità di vincere le partite. Djuric e De Vrel si stanno comportando molto bene, serviranno i loro gol per arrivare a questa salvezza? Ma in questa squadra qui io penso che la differenza la faccia la squadra. Cioè ci sono due singoli giocatori secondo me che sono Brienza che secondo me è l'essenza del nostro calcio a Cesena perché è un giocatore veramente di grande classe e De Vrel che ha l'imprevedibilità nelle sue giocate. Sono due giocatori che possono dare qualcosa in più però anche loro hanno bisogno della squadra e quindi io mi affido molto alla squadra, mi affido molto al lavoro di squadra, allo spirito di squadra ma soprattutto all'atteggiamento che dobbiamo avere adesso ogni domenica che le pressioni si faranno sentire sempre di più ma noi dobbiamo andare in campo con la testa libera lucida per cercare di provare a vincere più partite. Spera di poter allenare De Vrel anche la prossima stagione? Pensiamo adesso che De Vrel la prossima stagione penso che andrà in una grande squadra però De Vrel sa benissimo che deve continuare a lavorare per migliorarsi perché ha ancora tanti margini di miglioramento, neanche ancora tanti.